Benvenuti nel poliambulatorio dell'Arsenale della Pace di Torino, aperto da 29 anni. In questo tempo abbiamo offerto gratuitamente le cure mediche a più di 54.000 pazienti, grazie all'operato di 90 medici e operatori sanitari volontari. Grazie a questo progetto io posso restituire parte del mio tempo e anche della mia professionalità a persone che hanno bisogno di cure mediche o che non possono permettersi di comprare le medicine e in questo modo non solo queste persone hanno beneficio, ma anche la mia professione trova completezza e pienezza. In questi ultimi anni sono aumentate le richieste di specifiche cure che il Servizio Sanitario Nazionale non eroga e delle quali le famiglie del quartiere, principalmente immigrate con difficoltà di integrazione ed economiche, non possono sostenere i costi. Vogliamo incrementare le cure odontoiatriche, la fornitura di occhiali, le sedute di osteopatia infantile e fornire anche dei percorsi di formazione all'igiene orale, posturale e alla corretta alimentazione. Per questo acquisteremo il materiale necessario, quindi occhiali, kit di igiene orale, prodotti alimentari e di igiene per la prima infanzia. Inoltre, lavorando in rete con le associazioni del territorio, vogliamo implementare il servizio informatico per rendere più efficace il progetto sul territorio. Grazie